Royal Terrazze Ristorante Pizzeria Araschi, presso il Centro Commerciale Azzurro a San Marino. Royal Terrazze Ristorante Pizzeria Araschi a pranzo e cucina espressa self-service con pietanze fresche preparate sul momento. Il luogo ideale per la pausa pranzo, per un pasto veloce come quello di casa tua. Royal Terrazze Ristorante Pizzeria Araschi, aperto la sera con servizio e ristorante. 100 portate di carne e pesce cucinate e grigliate a vista e ogni mese un menù diverso in base alla stagionalità dei prodotti. Royal Terrazze Ristorante Pizzeria Araschi, oltre 50 tipi di pizza diversi in formato classico o gigante, o con impasti speciali al camut, farro, soia o integrali. Royal Terrazze Ristorante Pizzeria Araschi, presso il Centro Commerciale Azzurro a San Marino. Telefono 0549 805678 0549 95556.